Ciao, oggi questo sarà il video per la mia submission per Leon Slopped Viceversa per la domanda, prenderò un lock con la mano lì, perché sono la mano lì, la mano lì ho usato solo per cambiare la luce, questo è il migliore che può fare, è una buona hand ma può fare molto molto, questo è il lock che abbiamo chiesto, è un defiant con un quickset core, vedete il bianco, funziona davvero bene, ho trovato in un auction che mi vanno in Ebay, ho pensato come usare e ora ho la possibilità di usare lì, la parte curiosa è che il mio video sembrava molto a quello che Pikaolic ha fatto, lo vedo e credo che abbiamo avuto il stesso problema e li solviamo in un modo stesso, quindi sarà un video molto parecchio, proviamo! Ok, hello, we are ready! Ok E voilà, we have an open! So, quick getting! ok so so we can see a little better ok ok this is the lock it's open we can close it back because we have the key and we can gut it with the left and wow this will be an adventure a long adventure be ready to lash a lot no spring ok no spring so just a nice shim with the left hand voila incredible this is Questo è il corso, come vedete. Tutti i pinci hanno bisogno di sfruttare, ha un po' dentro, ha un po' di acqua e un po' di acqua dentro. Allora, lasciamo con l'altra mano. Ok, ricordo che è tutto standard e il corso non ha alcuna modificazione. Oh, sorry. Nothing at all. And now, the Bible. Really, really nice. Now, it's coming the nice part. Standard. We dump the spring after. Another standard. I think it's all standards. Standard. With the spring. Other side. Standard. And standard. Sorry for the frame. I'm not in frame. Ok. All the springs are the same. Just a minute, I'll show you all the pins. The core is standard too. Let's go see the pin. Ok. You see? Everything is pretty standard. Now, another fun part. Let's put it back together. Ok. Try not to laugh too much, please. This will be a long video, I think. Because I'm no good with my left hand. Maybe this way. I usually have the camera on my left, because I'm right-handed. I realize that being this is a video for a left-handed pick, I should have put it on the other side. But it's too late. Ok. Let's try to reassemble. You see, even my brain is confused. Oh my god. Ok. Never do this again. Please take a note. I've got... I've got... Oof. Oops. Questa sembrava come una camera di candidato, più o meno. Questa sembrava come una camera di candidato, più o meno. Questa sembrava come una camera di candidato, più o meno. Questa sembrava come una camera di candidato, più o meno. Non è un video piccolo, ma un video comico. Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Questo dovrebbe essere un po' più facile. Ho detto che dovrebbe essere... Ho detto... ... 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